Ci sono le persone che hanno l'attaccatore dei capelli in un certo modo, no? Ce l'hanno tipo dietro, io ce l'ho qua! Perché io quando inizio un video, porca Eva, devo essere così? Perché? Sempre, sempre! Sono i dislike degli haters che mi fanno avere i capelli così, fantastico! Sti cazzi! Hello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ e oggi siamo tornati su Paint the Town Red che è stato aggiornato un sacco di volte perché da una vita che non lo faccio e quindi ci sono i livelli degli utenti, che è una figata! Skyrim, Dragon's Reach, va bene, poi abbiamo, minchia, Dragon's Reach veramente! Iniziamo con Skyrim, che figata! Ma com'è il vestito! Ciao ragazzi di Dragon's Reach, io sono Dovakin! Come siete tutti belli incazzati che non aspettate altro che io vi dia un pugno! Ho trovato questo, posso infilartelo nell'occhio? Non adesso perché dovevo dare un'occhiata in giro prima! Oh, che belli tutti questi vestiti poco eterosessuali! Eccolo qua, lo Jarl! Vabbè ragazzi, allora, basta gatto comparire nei miei video, lo so che vuoi la fama, basta! Direi di iniziare a picchiare lo Jarl, però tutti quanti se picchio lui sicuramente si rivolteranno contro, però... Yolo! Non ti ho colpito zio, non ti ho colpito! Non ti ho colpito! Adesso ti ho colpito! Tanto questi si menano da soli, per quale cazzo di motivo lo sanno solo loro? A posto frate! Si menano, si menano da soli! Perché vi menate da soli? Vabbè, te lo regalo! Porca vacca, quello non va giù! Porca vacca, oh non muore, è impossibile! Mi sono cagato in mano! Fusrodà! Altro che fusrodà! Allora, signori, ho trovato il modo di uscire di... Ma perché questo c'ha la faccia felice? Perché mi... Orca Eva! Sicuramente adesso non è più felice! Fatemi capire dove devo andare, non ho capito... Cosa sono questi cubetti? Porca Eva, dove è finito? Berserk! Facciamo il berserk? Minchia, smolecolo la faccia a tutti, vè? Porca Eva! Altro che Skyrim! Rocky IV! Trucido il triceto a pugni! Aia! L'ho sentita questa! Un attimo che dovrei... Orca Eva, quanta vita ho! Cazzo! No, no, non mi toccare, non mi toccare, che muoio! Quanti mi mancano? Eh, troppo... Ragazzi, sto... Sono veramente morto! E ho troppa poca vita! Forse la mazza può aiutarmi! E non intendo quella vera! Ok! Ok! Porca Eva, quanto è forte sta mazza! Porca Eva! Trickshot! E via di arance! Piatto! Per Sasha! Eh... Shockwave! Boom! Madonna, come mi sono cagato forte! No, 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 non ci credo! È l'ultimo, non può uccidermi lui! Che culo! Non era lui! Oh, raga, ma quanti sono? Non mi ha massacrati tutti... Chi è che è vivo? Non è possibile! O tipo i livelli che scarichi non finiscono, tipo che fino... Throw something! Lancia qualcosa! Thanks for play! Oh, prego! Vabbè, dai, pazienza! Sono contento lo stesso! Brindiamo ai cadaveri! Vabbè, ragazzi, proviamo un rock concert! Questo ero curiosissimo di vederlo da prima! Salve! Voi non ascoltate Justin Bieber, eh? No, no, senti questa! We're soaring, flying, there's not a star in heaven that we can't reach! Eh? No, eh? Non gli piace High School Musical questa gente, però vabbè... Oddio, sembra Fabric! Ma come? Sentite, call play! Sono... Sono FabiJ! Fa anche rima! Senti, posso fare parte della band, io so cantare, guarda qua! Soldi in mano, danno assegni! Il mio culo sopra una Bentley! Big bubble, sto fumando! Ferro in mano! Come il Rambo! No, eh? Vi aspetto fuori, ragazzi! Vi aspetto fuori! Vediamo subito l'utilità di questo poliziotto barra bodyguard! Vediamo quanto serve! Utilissimo! Orca Eva! Beh, forse è proprio inutile, non è! Sì, però... Polizia, mi aggredis! Bravi! Bra... bra... No, no, no! Tu sei il cantante, non puoi fare brutta figura! E poi finisci sui giornali! No, no! Quella è la tua band! Ma perché? Dark Gun, 777! Eh... No, no! Sì... Ma come cazzo sei vestito? Senti, zio! Cosa è successo? Porca Eva! Pinchia, Jimi Hendrix può accompagnare solo! Aia! Porca Eva! Basta! Mi sono inciampati tutti! Sembrava mio zio! No, vabbè, raga, non ce la farò mai! Troppa bocca vita, c'è troppa gente! Fus Rodà! Puttana la maiala! Eh, quanta gente! Tutti c'è tutti scemi! Eh, vabbè, ce l'ho provato! Minchia, quanti ce ne sono? Cento! Ma voi siete drogati forte! No, vabbè, ma cento non ce la farò mai! Vai, replay level! Le provi l'ultima volta, ragazzi! Solo per capire se riesco! Ma minchia, cento sono troppi! Già iniziamo male! Già iniziamo male! Perché devi venire sempre tu che sei vestito di merda? C'è già... Ok, ma cos'è successo alla porta? Signori! Tanti auguri! Ma vabbè, raga, è impossibile Ciò sono i feed, sono i feed! Aiuto, aiuto, aiuto! Boh, morto, svenuto! Ragazzi, sto facendo peggio di prima! Sulemani, Milano! Avete mica delle armi da prestarmi, ragazzi? Grazie! Porca Eva che trambata! Scusa, non volevo! Che musicista, signori! Che musicista! Eh! Kawabonga! Porca vacca, strike! Eh, la madonna! Aiuto! Eh, ma sono Spider-Man! Cos'è? Come? Come sono morto? No, vabbè! Sono inciampato... Cioè, ho sfidato cento uomini incazzati a un concerto rock, tutti fatti di acidi, e sono morto perché sono inciampato su delle casse! Vabbè, raga, tanto era impossibile... Cioè, ho fatto ventisei su cento e mi sono impegnato pure! Basta! Va bene così! Sono contestato bellissimo! Spero che questo gioco l'abbiate rivalutato dopo questo video! Se non è un gioco dell'anno questo, non lo so io! Spero che il video vi sia piaciuto! È stato be... Bello! Bello! Altro che poco! Buon video vi sia piaciuto, ragazzi! Come se vi è piaciuto il commento, mi piace anche i vari social, come i video, trovate nella descrizione! Se non vi siete iscriviti, ci rivediamo ad un prossimo video, ad un prossimo concerto, quello che è... Beh, ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.